E benvenuti ragazzi, sono il vostro Mino e oggi siamo come lo scorso episodio con Ron su Pokémon M.O. Benissimo ragazzi, come vi ricordate siamo arrivati qua in Bluruvia mi sembra, non mi ricordo il nome, sono una frana con i nomi, scusatemi. Però a proposito di frane siamo dentro la grotta e con l'aiuto di Ron non ho voluto far insegnare a nessuno Flash perché diciamo ora non ho un Pokémon con diciamo servo per tutte le mosse, però abbiamo come vedete dalla mia destra abbiamo ripreso Zippo che nella live ci ha aiutato a catturare gli Eevee, perché come sempre abbiamo il Donator attivo e quindi possiamo catturare, potrebbe spawnare il 10% in più, la probabilità, 10% in più, gli Shiny. Quindi abbiamo falso finale di Zippo come primo e potrebbe servirci. Quindi andiamo Ron, ti seguo, fammi la guida, vai Ron ti seguo, intanto c'è anche Mirtillo con noi che qua sotto che dorme, bellino ciccino. Ron vai ti seguo, attenzione attenzione, Abra, anche un Abra Shiny sai com'è. Anche se non è forte ragazzi, un bel Pokémon, una bella squadra Shiny non farebbe male. Makuita, non so, i quei nomi ragazzi come ho detto prima sono una frana quindi non so pronunciarli. Però anche questo qua che non ce l'abbiamo potrebbe essere buono, quindi io una Poké Ball gliela darei. Falso finale. E ce l'abbiamo. Zaino, zaino, Poké Ball, dovrebbe entrare, una, due, tre, dentro. Abbiamo Makuita, vediamo un po' come è... Gentile, quindi direi di difesa speciale meno due difesa. Eh, buono, però lui difesa speciale non gli interessa, peccato. E ragazzi non voglio fare per lente perché qui se capitano lo Shiny sono sempre soldi. Innanzitutto abbiamo 100k in più, 100.000 soldi in più perché abbiamo venduto parte, parte, degli ivi, parte degli ivi che avevamo trovato, presa la Poké Ball sotto Ron, possiamo tornare su, parte degli ivi... Ohhhh, guarda chi c'è, ciao Aaron, ciao bellissimo, ci metterò un po' a catturarlo, però... Aaron, 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 Aaron. Vabbè, basta con queste battute, basta, basta, basta. Uno, due, tre, preso! Preso Aaron, vediamo un po' com'è. Careful! Più 10 di difesa speciale meno 10 attacco speciale. Oddio! Ha 26 attacco fisico e 31 difesa speciale, purtroppo velocità 11, però... Però, 26 attacco fisico e 31 difesa speciale, ragazzi... Molto, molto esistente. Eh, infatti lui è lento di suo. Però, buono, buono, dai, dai, dai... Certo, sì, no, aspetta, no, è su, è su, è sbagliato, è bagliato. Ancora Aaron. Eh, vedi, un Aaron Shiny, eh? Eh, vero? Aaron Shiny. Zubat, che non è Shiny. E andiamo avanti. E noi scendiamo. E noi scendiamo. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo giù, andiamo di qua. Attenzione. Dai! Dai, ma fate, cioè, fate vedere in modo che qualcosa va, cioè, non sta andando niente, non sta andando. Nel senso che non si trova uno Shiny, cioè, il Donator è stato pagato da Ron, e non, non si trova. Niente, lo stesso. E dai, però, e faccio trovare qualcosa. Oh, bello lui, com'è? Ma Will, ma Wille, ma Wille, ma Wille, ma Will. Credo, ma Wille si legga. Qui le Ult Joe non funzionano, non funzionano, non funzionano, non funzionano, 2, 3, ed ecco, vedi, è funzionato, vedi? Quando non funziono le cose, le cose funzionano. Ok, vediamo un po' com'è Jolly Jolly cos'era? Qui 10 speed ma 10 attacco speciale Bello Proprio bello Bellissimo Proprio c'è la velocità 2 Bello, proprio bello Proprio bello Everstone Ok, trovate Everstone Andiamo giù Continua Niente Ancora lui, ma noi l'abbiamo già catturato E quindi non ci interessa più E andiamo avanti Avanti Oh, grazie signore Sebeil Questa era Polo Porolo che parlava Usiamo Beccata Per indivolire Sebeil E tiragge una bella Pokéball Ragazzi, qui stiamo catturando tranquillamente Non stiamo trovando nessuno Boh Non appaiono shiny Non appaiono shiny E vabbè E vabbè Vediamo un po' questo cos'è Oh Buio spettro Era con Adamante Ron vuoi accettare Perchè se scambio Scambio Ron, cosa mi dai? Ah, mi sembra di sì Ce l'avevo Però vabbè Grazie Ron Comunque c'è questo video un po' No, via C'è sebeil A PS I V PS Zero E il V Velocità Zero Vabbè Lasciamo perdere le cose che troviamo No, perchè guarda Sennò poi Poi le dico grosse Si dicono grosse Lasciamo stare Facciamo rivivere Zippo E diamo le superpozioni Vai Ci sono Finiamo Questa cavolo di grotto Finiamo Oh Ci vediamo Ah signore Abra Ancora niente Ancora Nulla Mi sta venendo solo Ragazzi Circa Shiny Non vengono Dai Uno Ragazzi Uno Anche uno Zubato C'è anche un Rattata Uno Me lo date uno Dai Forza Cioè ragazzi La grotta di Blue Ruby è durata 15 minuti Quasi Voglia Ma che cavolo è Ok Metti 47 Sì Ok Senceramente non mi ricordo Cosa faceva lui Non l'ho seguito Non te bene Non te lo ricordavi Ah è vero il messaggio Giusto la lettera La lettera La lettera Ok Prendiamo La barca Perché qui Dovemmo aver fatto tutto No Ron Non deve esserci Niente altro Sto a fare se non mi ricordo Male Prendiamo la barca E ci dirigiamo Di là Slateport City Yes Ciao belli Eccoci ragazzi A Slateport City Questi dannatori Verrò a combatterli Più tardi No C'era una No C'era una Nascosta Ta cavolo Vistadu 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 E vabbè Combattiamo No perché prima volevo fare Finire l'episodio con Ron Zippo Va bene Zippo Via di Drago Buttamelo giù Un altro Mirtillo Anche te E' buono Eh tu dormi Tu dormi C'era Lo scorso L'episodio Ragazzi Era agitatissimo Stava cliccando Sulla tastiera Dice Ma tu clicchi Perché non posso Cliccare In chi E c'era Gio E c'era Gio Però Ancora Quell'altro Niente In realtà è magica Una forza Una forza Ce le fanno Un altro Qui erano due tre allenatori nascosti proprio quelli ho preso maiale ma con me quattro perfetto posto grazie ron ragazzi grazie è il mio filo dai 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 no speravo che ah ok c'è la pokéball vediamo andiamo su andiamo su andiamo su e quindi siamo arrivati vuoi quanta fila c'è oggi ragazzi accidenti quanta fila eccoci qua benissimo quindi ragazzi con mirtillo che ci ripoggia qua bellissimo lui e con ron ci vediamo in un prossimo episodio dove andremo a sfidare il team idro e andiamo avanti con la storia intanto se vi ricordo come ho detto nel live perchè chi non lo ha seguito andrà a sapere sulla pagina principale del canale se è il momento non è bene iscriviti non è il terreno è il terreno immagino anche questo è il momento